Si fa sempre più concreto il progetto di realizzare un cinema nella città dei templi. L'amministrazione di Capaccio Pestum, in data 7 novembre 2019, ha deliberato infatti l'accensione di un mutuo per permettere la realizzazione di un cineteatro lì dove si trova l'ex cinema Miriam, ormai abbandonato da diversi anni. L'aggiunta Alfieri lo scorso mese aveva già deliberato ed approvato il progetto definitivo dei lavori ed ora è stato attuato il piano per procurare le risorse finanziarie necessarie per i lavori. Il Comune ha firmato un contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni, che ha come oggetto l'assunzione di un prestito della somma di 2 milioni e mezzo di euro ed avrà un ammortamento che durerà fino al 31-12-2048, diviso in 58 rate semestrali. L'amministrazione ha dichiarato l'immediata eseguibilità della determinazione. L'edificio, che verrà reso un cineteatro, è in disuso ormai da 30 anni e verranno realizzati importanti interventi per permettere a questa struttura di accogliere iniziative culturali e promozionali in una città prettamente turistica come Capaccio Pestum.